Il 22 aprile 2013 Giorgio Napolitano presta giuramento per la seconda volta. Un giuramento storico. È il primo presidente della Repubblica Italiana ad essere rieletto. Dopo cinque votazioni, infatti, il Parlamento non riesce a scegliere un successore e Napolitano accetta di restare per dovere di responsabilità. A creare lo stallo hanno contribuito alle elezioni legislative del febbraio di quello stesso anno. Le urne consegnano all'Italia un Parlamento frammentato e in piena crisi della zona euro. Il Paese è politicamente paralizzato. Situazione che Napolitano affronta spesso nel corso dei due mandati. Laureato in giurisprudenza all'Università di Napoli, è l'unico capo dello Stato a essere stato membro del Partito Comunista Italiano. Eletto deputato nel 1953, fa parte dell'Assemblea di Montecitorio, ad eccezione di una legislatura, fino al 1996 quando viene nominato Ministro degli Interni. Europeista convinto, eletto deputato europeo la prima volta nel 1989, la seconda, dieci anni più tardi. Dal 1999 al 2004 è presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo. Nominato senatore a vita nel 2005, il 10 maggio 2006 è eletto presidente della Repubblica con 543 voti. All'età di 80 anni è il primo politico italiano ad arrivare al Quirinale, passando per via delle botteghe oscure. Nel 2008, durante la consegna dell'onorificenza di professore dell'Università degli Studi di Trento, ha un malore. Ma i problemi di salute non gli impediscono di affrontare al meglio i momenti più difficili del suo mandato. Quando scoppia una crisi di governo, l'Italia guarda al presidente. Nel corso di questi nove anni, Napolitano vede avvicendarsi cinque presidenti del Consiglio. La convivenza politica più difficile è quella con Silvio Berlusconi, due personalità e due percorsi politici opposti. Nel 2011, il capo dello Stato ottiene, in piena crisi dell'euro e senza voto di sfiducia, le dimissioni del Cavaliere. Il presidente ha dedicato a Papa Francesco la sua ultima visita prima di annunciare le dimissioni. Se per i suoi detrattori, Napolitano è andato al di là dei suoi poteri, per i suoi sostenitori, incluso il Pontifice, è stato un ancora di stabilità. Grazie.